Impariamo gli array e i cicli in JavaScript. Ciao, io sono Michele e ti do il benvenuto in questa nuova parte del corso di programmazione web per principianti. In questa parte vedremo che cosa sono gli array, come dichiararli, come leggere e scrivere il loro contenuto, vediamo i cicli e vediamo le operazioni più comuni che possiamo fare con gli array per trovare elementi e... In questa parte vediamo come dichiarare un array, la sintassi, come leggere e scrivere gli elementi di un array, i cicli, come i cicli siano utilissimi per lavorare con gli array e le operazioni più comuni, sempre che possiamo fare con gli array, quali le ricerche per trovare elementi che ci interessano. Ma bando alle ciance e cominciamo subito, andiamo nell'ambiente di sviluppo. Per questo video non sono necessari particolari prerequisiti, abbiamo sempre usato Visual Studio Code e gli strumenti per developer F12 del tuo browser preferito. Ok, allora, oggi vediamo che cosa sono gli array, entriamo nel dettaglio, come li utilizziamo, che cosa sono, come si dichiarano e come ci si lavora con i cicli. Quindi, partiamo con gli array. Che cos'è un array? Un array è una struttura di dati che può contenere più valori. Abbiamo visto che una variabile ne contiene uno o uno solo, sia esso un numero o una stringa, mentre un array ne può contenere tanti. Quindi facciamo un esempio, così vediamo anche come si dichiara. LetArray uguale, e mettiamo tra parentesi quadre i valori, tipo 1, 2, 3, 4, 5, faccio un array di numeri. Ok, potrebbe essere anche un array di stringhe, quindi valori testuali, posso fare A, B, C, lo separo bene, B, virgola ce la posso fare, C, eccetera. Posso anche fare un LetArray misto, non si vedono usatissimi, però ci sono, che ne so, potrei fare A, 1, B, 2, eccetera, eccetera. Quindi sintassi molto semplice, inizializzo, uguale, con parentesi quadre, vado a separare da virgola i valori che ci voglio mettere dentro. Niente di più, niente di meno. Una cosa che io posso imparare è fare subito su un array e poi vedere quanto è lungo, chiedergli quanto è lungo. Array di numeri.length Allora, prendo questo codice, questo ci restituisce la lunghezza, lo prendo, lo metto all'interno dei developer tool di un browser, F12 nel vostro browser preferito. Andiamo nella sezione console, copio, quindi array di numeri, quanto viene fuori, contiamo la sua lunghezza e quanti elementi ha. 1, 2, 3, 4, 5, banale. Eccolo qui, otteniamo 5 come risultato. Andiamo avanti. Ok, prima di andare avanti però con altre istruzioni o cicli o quello che è, voglio assicurarmi dal punto di vista di concetto di un array che sia bene chiaro. Abbiamo visto che cos'è una variabile, quindi è un nome che diamo a un pezzettino di memoria del nostro dispositivo e ci possiamo salvare dentro quello che ci interessa. Quindi per esempio chiamiamo una variabile pippo e dentro ci mettiamo una scritta, ci scriviamo ciao. Quando invece abbiamo a che fare con un array, qui ci tengo a dire che il nome è della variabile, no? Perché questa precisazione? Perché quando noi abbiamo a che fare con un array, non abbiamo a che fare solo con un pezzettino, un cassetto della memoria, della RAM e del dispositivo, ma abbiamo un'intera cassettiera lunga a piacere, insomma quello che ci serve in base a quanto lo dichiariamo, come quando lo inizializziamo. E quindi ho una cassettiera, in questo qui per esempio era di 5 elementi, qui ne ho fatti troppi, 1, 2, 3, 4, 5, ne ho fatti troppi, questo lo tolgo. E andiamo a pulire qua. Ok, e l'abbiamo chiamato era array di numeri e dentro ogni cassetto ci abbiamo scritto 1, 2, 3, 4, 5. Questi sono i valori che è all'interno di ogni cassetto. Ogni cassetto ha un numerello e vediamo come ci viene di aiuto, che si chiama indice, ok? Che ci serve appunto per indicare con quale zona di questa cassettiera, con quale cassetto, quale zona di RAM vogliamo lavorare. E parte da 0 per convenzione, 0, 1, 2, 3, 4. Questo è l'indice, l'elemento di indice 0 ha valore 1, l'elemento di indice 1 ha valore 2, l'elemento di indice 4 in questo caso ha 5. Ma, ripeto, potremmo metterci dentro anche scritto ciao, ok? E l'elemento di indice 4, quindi l'ultimo, il quinto elemento, che è quello di indice 4, contiene il ciao. Ripeto un po' queste parole perché bisogna prenderci confidenza a contare da 0. Si può commettere qualche piccolo errore. Vediamo di fare pratica, quindi, come si leggono gli elementi. Teniamo questo, no? E per evitare problemi di 1, 2 lo cambio in lettere, ci viene più facile. A, B, C, D. E. Ok, array di numeri l'abbiamo inizializzato così, quindi array di numero, voglio vedere, voglio leggere cosa c'è all'elemento di indice 2. E quindi 0, 1, 2, dovrei trovare la C, ok? Prendo questo, lo porto di qua, pulisco tutto in collo e troviamo con successo la C, perché contiamo da 0. 0, 1, 2 è l'elemento di indice 2, la C. Posso cambiare l'elemento, quindi invece che semplicemente che leggerlo, gli posso dire, ci metto una Z, poi me lo vado a leggere, metto di qua, e abbiamo che effettivamente l'array di numeri alla posizione 2 adesso contiene una Z. Prendendo questo, così mi fa l'anteprima, vedete, A, B, Z, D, E. L'ho cambiato, lo voglio rimettere come prima, ok? Quindi scrivo array di numeri in posizione 2, ci mettiamo una bella C, ok? Quindi abbiamo visto lettura, quindi accedo usando la sintassi a parentesi quadri, quindi metto array e numero dell'indice per accedere, così leggo, e se invece faccio così, con l'operatore uguale all'operatore di assegnazione, assegno e cambio il valore, scrivo dentro l'array. Andiamo a vedere i cicli, che sono strettamente legati con gli array, è perfettamente normale impararli e comuni impararli insieme. Partiamo dal ciclo for. Che cos'è il ciclo? Sostanzialmente è un'informatica, è un costrutto, un sintattico, delle istruzioni che ci permettono di ripetere dei blocchi di codice tante volte, senza dover fare copy e incolla e scriverle, ma quindi ciclare e iterarle finché ne abbiamo bisogno. Il ciclo for è particolarmente comodo, si scrive così, io comincio a scrivere for e poi... Ecco, c'era la proposta di Visual Studio Code che si era un po' sporcata. È così, e vediamo come è composto e come si utilizza. Allora, il ciclo for ha innanzitutto una variabile che di solito viene chiamata la variabile di indice perché funziona come puntatore, come un indice che tiene il conto di dove siamo arrivati e viene dichiarata qui nella prima parte dopo la parentesi tonda, quindi for apro tonda e prima del primo punto in virgola metto l'inizializzazione della variabile indice che in questo caso, da questo esempio, parte a zero, ma potrei farlo partire dal numero che mi interessa. Poi ho una condizione, finché questa condizione è vera, io vado a ripetere le righe di codice che ci sono all'interno delle graffe. Quindi, se questa è vera, viene ripetuto il codice. Dopo aver eseguito una volta queste righe di codice, viene eseguita l'ultimo pezzo di questa parte tra parentesi che è l'incremento dell'indice. Quindi, in questo caso, abbiamo un indice che parte da zero, valuto, diciamo che la condizione è vera, vado ad eseguire questa riga di codice. Una volta che è stata eseguita, in automatico il programma esegue questa, ok? Quindi index++ vuol dire aumentare di 1 la variabile indice che, in questo caso, da 0 passa a 1. E, dopodiché, si ripete, valuto la condizione. Se questa condizione è vera, eseguo incremento. Valuto la condizione, è vera, incremento. Quindi, a parte un giro, la prima volta che viene inizializzata questa variabile, il ciclo for è 1, valuto la condizione, 2, eseguo le righe di codice tra le graffe, 3, incremento la mia variabile indice. Finché la condizione 1, espressa qui, è vera. Facciamo un esempio con il nostro array che avevamo prima. E lo vado a recuperare. Eccolo, è lui. Quindi abbiamo questo array. Diciamo che io voglio stampare sul log della console tutti questi caratteri contenuti nell'array. Quindi farò un for, indice che parte da 0, perché è il primo elemento. Facciamo finta di avere una freccia puntata qui, no? Che vale 0. È la nostra variabile index. E' lei che punta qui. Finché la lunghezza array.length, quindi la mia condizione, è che questa variabile indice sia minore di array di numeri.length, che è 5. Quindi finché l'indice è minore di 5. E ricordiamoci che il nostro indice va da 0 a 4, ok? Perché si comincia a contare da 0. Lo incremento e dentro, volta per volta, mi faccio un console.log, vado a scrivere, mi prendo array di numeri di index, utilizzando la sintassi che abbiamo visto poco fa, per leggere gli elementi da un array. Quindi stampo nella console, log, registro nella console, che cosa? L'elemento di indice index, alla posizione index, del mio array di numeri. Al primo giro index vale 0, quindi mi prenderò la A. Poi questo viene incrementato, index vale 1. E quindi stamperò la B e così via, affinché index vale 4. Perché quando index varrà 5, 5 è minore di 5, è falso, quindi questo pezzo di codice non viene eseguito più. E viene saltato tutto e si va sotto, console, lo scriviamo qua, .log, ho finito. Prendo tutta questa roba, la metto nei developer tool, pulisco, e abbiamo abcde, stampo, e poi qua sotto ho finito. Mettiamo anche qui una cosa che può essere comoda, giusto per capire, concateniamo indice, mettiamo uno spazio, spazio, così concateno, e ci scrivo index, così ci aiuta a capire. Lo porto di qua. Abbiamo poi il ciclo while, che ci permette di, sempre di iterare, finché una determinata condizione è vera. E si scrive così, while, condizione, finché questa condizione, la mettiamo in verde, finché questa condizione è espressa qui dentro, vi ricordo l'episodio della parte 4, 5, no, la parte 5, con le, prendere le decisioni in JavaScript, dove vengono spiegate le condizioni, parte 5 di questo corso, finché questa condizione è vera, viene eseguito il codice qui dentro. Quindi, per esempio, mi riprendo un array, ok, l'array di numeri, e facciamo così, ci scrivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, mi sto, fermiamoci qui. Quindi, facciamo finché il, vogliamo stampare i numeri pari, ok, o meglio, dai, stampiamo fino al 4, ci mi voglio fermare, mi voglio fermare al 4. Facciamo così, let index uguale a 0, quindi voglio partire da 0, avere una freccia che punta qui, mentale, un indice, e io cosa faccio? Per ogni stampo, console.log, ok, scrivo numeri di index, ok, e poi dico che questo qui l'ho fatto e mi sposto la freccetta, l'elemento successivo, andando a fare index più più. Quindi, dopo aver fatto questo console.log, aver scritto il numerello, vado ad incrementare l'indice, quindi a spostare il puntamento, diciamo, no? La mia condizione è che il, mi voglio fermare al numero minore, mi voglio fermare al 4, quindi al numero minore di 5, no? E quindi io faccio finché numeri di index. Il 4 lo voglio stampare, quindi dai, minore uguale di 4, quindi il minore di 5. Stampo i numeri minori di 5, o posso anche dire minori uguali a 4, stessa cosa, ok? Quindi proviamo a leggerlo un attimo, quindi il numero di index parte da 0, mi punta qui, mi restituisce 1, poi viene incrementato 2, 3, 4, quindi finché numeri di, finché l'indice mi sta estraendo, leggo dall'array un numero minore uguale di 4, Vado a stamparlo, piglio questa cosa, la metto qui e eccoci qua, ok? Questo qui è un 3 che deriva dal valore, ci sta dicendo il valore della variabile index, gli elementi che io ho stampato sono l'1, il 2, il 3 e il 4. Per maggiore chiarezza facciamo così, stampo, così, ok? E così vediamo che è proprio il ciclo. Eccolo, stampo 1, stampo 2, stampo 3 e stampo 4. Stampo i numeri minori di 5, minore uguale a 4. Abbiamo fatto bingo! Bene, infine andiamo a vedere il ciclo for each, che viene particolarmente comodo con gli array, anzi mi riprendo l'array di prima, vado benissimo, mi piace in formato A, B e mi fermo la C e vediamo il for each. Ok, il for each è molto comodo nella sintassi, significa per ogni, e quindi mi permette di specificare delle righe di codice che voglio eseguire per ogni iterazione, per ogni giro, ma soprattutto per ogni elemento di una collezione. Mettiamolo qui, per ogni, viene comodo, elemento di una collezione, un array è una collezione. Quindi scrivo numeri, punto, for each, e si scrive in questa maniera. Vuole che gli passiamo una funzione, quindi delle righe di codice, che specificano che cosa fare in questo formato, tipo numero e poi così. Numero, facciamo finta che è una variabile che ci rappresenta l'elemento che stiamo scorrendo della collezione. Il for each, al posto nostro, lui comincia dal primo elemento e scorre fino in fondo. E ogni giro ci mette, pronto pronto, comodo comodo, della variabile numero, l'oggetto che abbiamo per le mani che sta scorrendo. Quindi, per esempio, non sono numeri, è bruttissimo, scrivo lettere. Era orrendo. Qui metto lettera, perché qui ho un insieme di lettere, ma questa è una singola lettera che io ho per le mani, e ci faccio console.log e io mi stampo una singola, per ogni singola lettera la vado a stampare. Copio questa cosa, la porto di qua, ormai siamo abituati, abc. Quindi ho dichiarato l'array e dentro alle lettere abc, per ognuna for each di queste lettere, ho una lettera per mano e per le mie mani, facciamo finta, visualizziamo bene di avere le nostre mani, una lettera, e che cosa faccio? La scrivo. Il ciclo for each, al posto nostro, scorre. Quello che noi dovevamo fare, gestendoci all'interno del for, invece, o anche del while, una variabile che ci rappresentava l'iteratore, l'indice che scorre avanti e indietro. Ciclo for e for each sono quindi simili, appunto anche nel nome, ma c'è una diversità. Con il ciclo for, sì, devo gestire di più, ho una sintassi un po' più complessa. Lo rifaccio qui velocemente, no? For, il mio array qui si chiama lettere. Devo gestirmi l'indice, ho l'incremento e tutto quanto. Mi prendo questa cosa, no? Però con il ciclo for, a un certo punto, posso anche decidere una condizione di uscita improvvisa. Esempio, se trovo la lettera b, esco improvvisamente. Quindi, if lettere di index trovo la lettera b, che cosa faccio? Scrivo, lo faccio vedere, console.log, ho trovato la lettera, e metto che lettera ho trovato con lettere di index. Poi ci metto un bel punto, esco, così. Per uscire scrivo break. Ok? In questo modo vado ad interrompere tutto quanto il macchinario del ciclo for e vado qui sotto. Il flusso di esecuzione del programma va qui, console.log, lo metto, sono uscito dal ciclo. Metto tutto questo in maniera esplicita perché adesso lo prendo... Ah, questo break non esiste nel for each, non ho questa possibilità, ecco. Questo volevo dire. E lo prendo, facciamo un po' di pulizia, lo porto di qua e lo faccio andare. Lettra is not defined, è colpa mia. Che cosa non ho definito? Con un po' di copia e incolla mi sono fregato, non dovevo scrivere lettera, questo ce l'avevo nel ciclo for, ma questo è il bello della programmazione, queste cose capitano. Al posto di lettera qui, me lo diceva anche un po' Visual Studio, devo mettere lettere di index, ok? Se voglio stampare, stampo la lettera, ok. Riprendo tutto, porto di qua. Lettra is not defined, appunto, non esisteva, eccoci qui. Quindi lui parte, A, trova la lettera B al secondo giro, esco e sono uscito dal ciclo. La C viene saltata bellamente. La B mi ha rappresentato in una condizione di uscita, non l'ho proprio neanche fatto. Quello che in realtà il ciclo doveva fare. Ok, infine, ultima cosa, vediamo delle operazioni di ricerca che posso fare negli array. Allora, complichiamo leggermente l'esempio. Facciamo un array che ci rappresenta dei gusti di gelato che abbiamo al nostro banco. E invece che metterci un oggetto diretto, un valore, un literal, cioè quindi proprio quello che è direttamente un valore numerico o un valore stringa, come abbiamo fatto fino adesso. Facciamo qualcosa di leggermente più complesso. Ci andiamo a mettere all'interno dei nostri cassetti della RAM, non appunto un ciao o una stringa secca o un numero, ma andiamo a mettere un oggetto complesso. Gli oggetti complessi si costruiscono così in JavaScript, tra parentesi graffe, e posso dargli delle proprietà specificandogli il nome e il valore. Quindi, che ne so, il gusto di gelato, gli do un nome e lo chiamo... Che gelato facciamo? Facciamo il cioccolato. E poi gli do una tipologia, quindi gli crea una proprietà che si chiama tipo e che è una crema. Mai buscolo. Ok. Mi predispongo con la virgola, ne faccio un po' così e tolgo la virgola dall'ultimo. Poi voglio fare il pistacchio, poi faccio la vaniglia, la fragola e infine faccio la banana. E cosa ci mettiamo? Ci mettiamo che però queste sono creme e questo invece è un tipo frutta. Frutta e frutta e lo mettiamo così. Molto bene. Allora, quindi ho questo mio array che contiene gusti di gelato. Ogni elemento dell'array è un gusto e insieme sono i gusti di gelato. Voglio fare una ricerca, quindi voglio trovare all'interno di questi array, non voglio semplicemente scorrerli tutti dal primo all'ultimo e stamparli o passarli in rassegna. Ma proprio voglio fare una ricerca puntuale. JavaScript ha un'istruzione molto potente che si chiama il find negli array. Faccio gusti di gelato.find e mi chiede di specificare una condizione dell'elemento da trovare. E mi restituisce il primo, anche se ce ne fossero più di uno nella collezione che rispetta appunto la condizione e io volevo, che ne so, tutti i gelati di tipo frutta. Mi restituisce il primo. Quindi, gelato. Quindi, gusti di gelato, trovami che cosa? Un gelato, è un po' come prima con il for each, vuole una condizione, ok? Faccio finta di avere per le mani una variabile che si chiama gelato e questa variabile che si chiama gelato mi rappresenta uno alla volta di questi. Quindi, per me, mi devi trovare quello che gelato... no, gelato.tipo è uguale a frutta. Ok? Mi aspetto che mi venga restituita fragola perché è il primo andando dall'alto verso il basso. Prendo tutto, metto nel browser, incollo... E... no. Allora mio, molto banalmente, non ci volevano le graffe. E... qui. Quindi, niente graffe. Copio incollo. Pulisco. Eccolo qua. Fragola. È il primo. Se invece io li volessi trovare tutti quelli che sono tipo frutta, non devo usare find, ma devo usare il filter. Quindi vado qui dentro. Lo sostituisco qui al volo. Filtra, come era un filtro, un setaccio per le mani che mi fa passare, mi trattiene sopra il setaccio solo quelli di tipo frutta. In questo caso, effettivamente, sono due. Ok? E ho la fragola e la banana. Sono stati tralasciati. Cioccolato, pistacchio e vaniglia che sono di tipo crema. Bene, abbiamo visto quindi che sono gli array, sono queste cassettiere, no? Le ultime operazioni che possiamo fare, le vediamo velocemente, sono l'aggiunta di elementi in coda. Quindi se io ho let nu lettere e abbiamo di nuovo A, B e C e volessi aggiungere la D, basta fare lettere.push. Ok? E aggiungo, che ne so, la D. Ok? Faccio così. Copio. Metto qui nel browser. E posso aggiungere. Adesso ci vediamo che le tre punto push ci restituisce 4, che significa che la lunghezza adesso dell'array è 4, lo andiamo a vedere. Scrivo lettere A, B, C, D. Ok, tornando un attimo qui, un'altra cosa che posso fare, quindi dato il mio array di 4 elementi, è togliere. Posso sia togliere l'intero cassetto, quindi proprio bruciare l'intero posto e il suo contenuto, oppure anche solo il suo contenuto, ve li faccio vedere passo passo. Quindi prima vado a togliere il contenuto, vado a svuotare il cassetto, il cassetto resta, ma tolgo il contenuto. Voglio togliere, faccio una delete di lettere di 3. Queste le voglio togliere la D, ok, l'elemento di indice 3, 0, 1, 2, 3. Ok, se io vado a rivedermi lettere, ho comunque un elemento lungo 4, ma l'ultimo, il cassetto, è vuoto. Per togliere definitivamente il cassetto uso quello che è l'istruzione splice, che mi chiede da che cassetto voglio cominciare a togliere e quanti ne voglio togliere. Quindi voglio togliere il quarto, che sarà quello di indice 3, e quindi scrivo, voglio cominciare a togliere dal cassetto di indice 3, ne voglio togliere uno solo. Fanno il mio invio, il cassetto mi viene restituito, in questo caso è un cassetto vuoto, se eventualmente volessi farci dei controlli o delle altre operazioni, però l'array adesso è come prima, è tornato ad essere di tre elementi. Non tutti i linguaggi mettono a disposizione in maniera così semplice la manipolazione degli array, che di solito sono degli oggetti molto più statici, difficili da allungare, accorciare e spaccare. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo concluso anche questa parte, dove abbiamo visto gli array, come si dichiarano, i cicli e come lavorano insieme. Abbiamo visto tanti concetti complessi e non di facile digestione, soprattutto alle prime volte, quindi è normale se hai bisogno di tornare indietro e rivedere dei passaggi e rivedere questo video più volte. Il mio consiglio è quello di, quando faccio gli esempi, guardare quello che faccio, poi mettere in pausa e provare a farli da solo, anche completamente uguali, ma anche facendo delle piccole variazioni e sempre cercando di anticipare con la mente quello che il nostro programma dovrebbe fare e vedere se anticipiamo correttamente, il programma fa esattamente quello che abbiamo pensato. Se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, metti un mi piace, iscriviti al canale, così sarai subito pronto, notificato, quando arrivano dei nuovi video. Ciao!